buongiorno ad obiettivo news oggi primo dicembre sant'eligio ed è la giornata mondiale contro l'ids celebrata in tutto il mondo dal 1988 è stata la prima giornata mondiale della salute ed è divenuta una delle principali ricorrenze e un'opportunità fondamentale per sensibilizzare sul problema esprime solidarietà alle persone affette da questa sindrome e commemorare coloro che hanno perso la vita anche a causa di malattie correlate da allora sono stati fatti progressi scientifici per il trattamento dell'ids sono state adottate leggi per proteggere le persone affette e si hanno più strumenti per comprendere le condizioni delle vittime la giornata mondiale contro l'ids rappresenta così importante occasione per promuovere prevenzione e assistenza combattere i pregiudizi e sollecitare i governi e la società civile affinché vengano destinate risorse appropriate per la cura e le campagne di informazione grazie a tutti